Con noi l'assessore Giuseppe Affinito, siamo a margine del Consiglio Comunale di Afragola, oggi in Consiglio Comunale si è discusso della costruzione di questi 450 nuovi loculi per gli afragolesi, approvato in Consiglio Comunale, lei ha relazionato su questo punto, di cosa parliamo? Allora, innanzitutto direi oggi è davvero una giornata importante per la città di Afragola, un ringraziamento va al Consiglio Comunale, in particolar modo ai consiglieri di maggioranza che hanno consentito l'approvazione di questa delibera per la realizzazione di 456 loculi all'interno del cimitero comunale di Afragola, una delibera che viene a seguito di un'altra delibera di ampliamento del cimitero comunale, dove sono stati realizzati due campi di inumazione. Questa in particolar modo consentirà la realizzazione di due blocchi da 228 loculi ciascuno che porrà fine fortunatamente a quella carenza che negli ultimi anni aveva caratterizzato la città di Afragola. Parliamo appunto di una carenza di fosse di inumazione, quindi persone che dovevano provvedere alla riesumazione ordinaria e straordinaria in alcune circostanze, ma non potevano in quanto non avevano a propria disposizione un loculo dove riporre i resti dei propri cari. Oggi finalmente provvediamo a questa modifica del piano triennale delle opere pubbliche per la realizzazione di questi nuovi loculi all'interno della zona nuova del cimitero, parliamo appunto del lato destro del cimitero comunale. Come verranno assegnati questi nuovi loculi? Mi fa piacere questa domanda perché è stata intenzione del sindaco, del mio e dell'intera amministrazione riservare priorità nell'assegnazione dei loculi proprio a chi deve procedere alle riesumazioni dei propri cari. Questo appunto tenderà ad evitare inutili speculazioni come sono avvenute negli anni precedenti dove ci sono state persone che si sono trovate con due, tre, più loculi e persone che dovevano procedere alle riesumazioni che si trovano appunto in assenza di loculi. Particolare poi è stata in questo consiglio comunale ancora una volta l'assenza dei consiglieri dell'opposizione nonché il rifiuto a votare una delibera che va proprio nell'interesse dei cittadini di Afragola e dei pochi consiglieri di opposizione rimasti in aula. Con noi l'assessore all'ambiente Salvatore Javarone, tra pochi giorni ci sarà l'apertura delle buste per questa famosa gara d'appalto sulla gestione dei rifiuti urbani ad Afragola? Sì, la prima parte della gara si è terminata per quanto riguardava la presentazione di tutta la documentazione da parte delle ditte che hanno partecipato, c'è la seconda parte che riguarda l'offerta economica, dovrebbe chiudersi il tutto tra le feste di Natale, tra la festività di Natale e quella di Capodanno, in modo da chiudere questa pagina entro l'anno 2015, aprile dal 2016 subito un nuovo capitolo, speriamo con la nuova ditta, sperando che si superano le difficoltà che oggettivamente abbiamo avuto con la ditta che attualmente svolge il servizio ad Afragola. Ricordiamolo che il 15 settembre abbiamo denunciato come amministrazione presso la stazione dei carabinieri di Casoria la ditta SIECOGEMA che svolge il servizio sul nostro territorio, abbiamo provveduto a ottobre a fare la risoluzione contrattuale, a novembre a bandire la nuova gara, entro dicembre l'obiettivo è quella di chiudere in modo da partire già da inizio anno con la nuova ditta. Se va tutto bene, quali saranno le ripercussioni positive sulla cittadina? La nuova gara prevede tutta una serie di novità, la prima è l'avvio del servizio alle 5 del mattino e non più alle 6 per cui guadagnando un'ora avremo la città pulita la mattina presto già quando si crea il traffico per andare ad accompagnare i figli a scuola, non vedremo come prima i camion al centro strada che inevitabilmente perché lavorano blocca nel traffico, certamente questo potrà capitare ma partendo un'ora prima la città sarà presentata meglio agli occhi dei cittadini già dalle prime ore del mattino. L'altra novità sono i camion, camion molto più grandi, per capire questi qua sono 35 tonnellate, questi che attualmente lavorano sul territorio e ricordiamolo che furono scelti in una gara che non abbiamo fatto noi come amministrazione ma che abbiamo ereditato. Nella nuova gara i camion sono portati a 120 tonnellate, cioè 4 volte più grandi, decisamente migliori da questo punto di vista. Un'altra novità è l'isola ecologica fissa o meglio il centro di raccolta fisso che avremo proprio qua all'ingresso dell'asse mediano di Afragola, un'isola ecologica mobile prevista da contratto ogni sabato itinerante su tutto il territorio della città e poi tutta una serie di altre novità che sono presenti in questa gara e che non lo erano nella precedente. Oggi abbiamo ancora un periodo di difficoltà su alcuni pronti. Infatti io su questo fronte le volevo segnalare la presenza ancora in zone periferiche di situazioni abbastanza imbarazzanti. Abbiamo delle difficoltà, alcune le stiamo risolvendo proprio con Campania Ambiente e Servizi che è un progetto che abbiamo provveduto a realizzare noi come amministrazione comunale, un progetto della Regione Campania a cui abbiamo aderito come amministrazione comunale, il finanziamento più grosso è stato dato proprio alla nostra città, 2 milioni e 300 mila Euro di bonifiche nelle aree periferiche di Afragola, dietro lo stadio Moccia abbiamo già terminato l'intera pulizia dell'aria, dietro la motorizzazione di Afragola sono ancora in corso i lavori, il grosso lo stanno realizzando in queste ore a via Ponzo, a via Capri, nella zona confinante con Casoria, Masseria Maggiulo, dietro Ikea e dietro l'Erua Merlen, subito dopo sarà la volta di via Ferrarese dove già da inizio anno, subito dopo queste feste inizierà un intervento forte di pulizia. È vero, queste aree le abbiamo già pulite anche in passato, dunque vuol dire che persiste il problema del lancio del sacchetto dell'abbandono dei rifiuti e su questo fronte che bisogna mettere in campo sicuramente proprio con la Polizia Municipale l'intervento maggiore di controlli delle aree periferiche. Ci sono oggi 100 telecamere, ci sono da qualche giorno 15 guardie ambientali guidate dalla Polizia Municipale, bisogna però potenziale di molto la Polizia Municipale presente nelle periferie della nostra città, altrimenti rischiamo di pulire e poi perdere il controllo di quelle aree se non vengono controllate periodicamente. Dunque forse una criticità è su questo, questo è segno però ancora di una non sensibilità forte da parte dei cittadini perché se queste aree vengono pulite e poi sporcate nuovamente vuol dire che c'è qualche problema, noi abbiamo ripulito aree, penso alla seconda rotonda arena dove non si facevano interventi, oggi sono decisamente più pulite, dove non si facevano interventi da quando quelle rotonde erano state realizzate anni e anni fa, per cui ricordo che abbiamo tolto amianto nelle periferie di via arena che gli agricoltori di quella zona ci hanno detto che erano state abbandonate nel 2008, che io stesso avevo denunciato abbandoni nel 2008, le abbiamo ripulite quelle aree nel 2014 appena arrivati come amministrazione, però se noi ci ritroviamo poi nel 2015 di nuovo a fare interventi in quelle aree, interventi minimi rispetto a come le avevamo ritrovate prima, vuol dire che però persiste l'abbandono selvaggio del sacchetto e dei sacchetti e dei rifiuti, vuol dire che forse sulla fase dei controlli c'è bisogno di fare un maggiore e più forte intervento, questo sicuramente. Con noi il Vice Sindaco di Afragola, l'Avvocato Giovanni Giglio, siamo a margine del Consiglio Comunale, ha appena approvata la stazione unica appaltante, Vice Sindaco che cos'è e come funziona? La legge 90 del 2014 prevede che i comuni per indire gare quando riguarda i lavori e i servizi devono aderire a una stazione unica appaltante, la scelta fatta dal comune di Afragola è quella di aderire alla stazione unica appaltante della città metropolitana. La durata di questa convenzione, questo accordo quadro che andiamo a fare con la città metropolitana è di un anno, rinnovabile per i prossimi tre anni. Rispetto al dettato normativo che ci imponeva entro il 31 dicembre 2015 di aderire ad una stazione unica appaltante, noi l'abbiamo ottemperato con la delibera approvata stasera in Consiglio Comunale, per noi sarà questo primo anno facciamo un po' di rodaggio con la città metropolitana, anche perché è allo studio la possibilità eventualmente di fare dei consorzi con altri comuni per creare una nostra stazione unica appaltante, oppure, cosa secondo me molto più facile e molto più semplice, noi tra le varie partecipate che abbiamo, abbiamo la città di fare che è di verse già un consorzio, stiamo studiando insieme agli altri sindaci se è possibile creare un consorzio con città di fare per creare la nostra stazione unica appaltante con i comuni aderenti al consorzio, quando prima ci sarà un incontro con gli altri sindaci per valutare questa possibilità in concreto. Allora, giusto per fare maggiore chiarezza rispetto ai cittadini, questa cosa significa che tutti gli appalti, gli acquisti del comune dovranno passare attraverso questa stazione unica? Perfetto, tutti gli appalti e servizi superiori a 40 mila euro passeranno per la stazione unica appaltante in cui di fatto la provincia avrà un software dove noi invieremo in allegato tutti i bandi di cara, loro ci faranno anche una prima valutazione del bando di cara e questa dà la possibilità di ridurre notevolmente i contenziosi perché molti contenziosi si hanno proprio quando talvolta il bando presenta qualche errore, quindi noi nel momento in cui la città metropolitana ci darà la sua validazione ci sarà un ulteriore controllo sul bando che permetterà questo di ridurre sensibilmente eventuali contenziosi.